che c'è puoi procurarmi un lascia passare per il cimitero nessun problema forse già che ci sei potreste dare una ripulita da quelle parti vedremo non c'è niente di meglio che una bella bevuta d'accordo è una bottiglia di rom non credo che mi direi niente di interessante che cosa cerchi vorrei entrare nel cimitero le autorità cittadine lo hanno proibito o un lascia passare firmato dal capitano mais eccoti le chiavi entra e cerca dove ci sono le sepolture più recenti ma se ti uccidono non tornare a infestare le mie notti arrivederci non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Che cosa cerchi? Ecco la tua chiave Hai saputo niente? Il corpo di Raymond giace nella cripta Ma come? Gli ho parlato di recente Quel mago illusionista il capo dei salamander finge di essere Raymond Fai smettere di piovere Scusa mi ero perso nei miei pensieri Ho pensato che tu lavorassi per Javed Pensavi davvero che fossi a capo di salamandra? Morirò da ridere Qualcuno si è impegnato Qualcuno si è impegnato parecchio per farmelo credere Oh dunque ora ci credi che non sono io? Hazar voleva farmi credere che tu lavorassi per lui Non lo farei mai E sai perché? Perché? Quel pazzo attinge il proprio potere dal fuoco L'elemento del caos Incontrollabile dal raziocinio L'esatto opposto dell'ordine presente negli altri elementi Attingere dal fuoco è pericoloso E' tutto ciò che devo sapere Scusa mi ero perso nei miei pensieri So che Raymond è il capo di salamandra Ne sei sicuro? Si Hazar ha ucciso Raymond e ne ha assunto l'identità attraverso l'illusione Che intendi fare al riguardo? E' meglio che tu non lo sappia Fa' attenzione Devi separarlo dalla fonte della sua forza L'elemento del fuoco Attiralo in un luogo dove sia circondato dall'elemento opposto L'acqua La torre nella palude E' l'ideale Lì avresti qualche possibilità Come ci arrivo nella palude? Oltre il cancello ovest raggiungerai il terrapieno che porta a Visima Antica E poi? Poi troverai un traghetto che ti porterà nella palude Il traghetto viaggia in entrambe le direzioni? Si, c'è un porticciolo nella palude vicino al villaggio dei mattonai Grazie Mmmmm Arrivedi Arrivederci